Innovazione tecnologica e digitale. Quanto la tua azienda è al passo coi tempi e sta applicando tutti i processi di transizione tecnologica? Quanto la tua azienda sa sviluppare software e applicazioni che massimizzino la produttività aziendale? E ancora, quanto la tua azienda sa valersi del giusto professionista in grado di tenere alto il livello di sicurezza informatica? Questa figura professionale si chiama Coder. L'esperto in coding è molto richiesto dalle aziende, soprattutto perché non si sa bene quanto un talento digitale simile sia sufficientemente formato. Ed ecco che entra in gioco Next. Il progetto Next, selezionato dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale, ha l'obiettivo di combattere il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Next, trova il Coder più adatto alle tue necessità. Quindi, il talento digitale con le giuste skills, con le giuste certificazioni e con la giusta voglia di diventare una risorsa per la tua azienda. Semplice, subito Next.